come si soffrono d'inferno le pene ma ancora non sa che cosa le aspetta e glielo dirò però senza fretta siamo quasi a Natale siamo tutti più buoni e pochi o tanti ci fanno dei doni ma prima bisogna il ballo studiare perché c'è mamma mia l'esame da fare i nostri maestri di solito cari diventano di botto dei mostri un po' rari ti è in alta la testa bassa le spalle ti faccio la testa ma insomma non vedi che ancora non sai come va fatto il lavoro dei piedi e intanto tu trevi ti viene la paura perché proprio non puoi fare brutta figura e quando arriva il maestro da fuori per farci l'esame ci battono i cuori quando tutto è finito compagni ma sì noi ci ritroviamo sfiniti e ridotti così bravo bravo E' un po' che dice così 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 Facciamo un applauso a tutti gli allievi Facciamo un applauso a Federica e Daniele Per queste esibizioni E' un po' che dice così E' un po' che dice così